Pensare di fare dei video o semplicemente di postare o di postare degli articoli di qualcun altro con la paura o comunque sapendo che vi è una possibilità che il social a suo insindacabile giudizio ce lo possa bloccare, cancellare fino ad arrivare alla possibile chiusura della pagina non mi sembra una grande dimostrazione di libertà di espressione. E questo senz'altro fa parte di quei dati raccolti per stabilire se in un determinato paese come l'Italia che si trova oggi al 58esimo posto nella classifica di libertà di stampa che è in gara con oltre 100 paesi ma di questo ne avevo già parlato in un video a settembre ci obbliga a servirci anche di altri strumenti come ad esempio Telegram a cui ti invito ad iscriverti per seguirci anche in caso di blackout improvviso e non dell'elettricità ovviamente perché in quel caso pace. Oggi sappiamo per certo che questa pagina viaggia con il freno a mano tirato per le continue segnalazioni di cose che evidentemente a qualcuno non piacciono ma tant'è questa è la libertà d'azione che ci è concessa oggi. Infatti metterò nel primo commento il link al gruppo Telegram così se vorrai potrai iscriverti, unirti e continuare a seguirci. Oggi vorrei parlarti di un fatto che ho trovato a dir poco allucinante. Un certo Antonio Davino che io non conoscevo è presidente della FIMP cioè la Federazione Italiana Medici Pediatri e in merito alla situazione dei contagi covid a scuola ha detto all'ADN Cronos Salute attenzione all'arrivo dell'influenza che complicherà le diagnosi da covid. Come pediatri da qualche mese siamo impegnati in modo significativo sul fronte della prevenzione e su quello delle vaccinazioni. Ma c'è un nodo. Per far aumentare le immunizzazioni dei bambini occorrerà che aumentino i casi ovvero che si inneschi un po' di paura nei genitori. Quindi lo scopo è quello di vaccinare tutti innescando paura nei genitori. Poi che faccia bene o faccia male non è evidentemente importante. Nel corso del suo discorso di insediamento per la carica di presidente della FIMP a marzo 2021 ha detto il pediatra di libera scelta gode di un tesoro inestimabile la fiducia delle famiglie che da 40 anni rimane immutata. Ora capisci bene quanto lui sappia quale forza possa avere per incidere significativamente sulle nuove generazioni. è abberrante a dir poco direi che dicano cose di questo genere. Comunque un'altra notizia che sta circolando è quella che riguarda il Canon ERAI. Siccome il Canon ERAI che da qualche anno ci obbligano a pagare con le bollette della luce è troppo basso in pari circa 9 euro al mese il governo sta pensando di ampliare il Canon ERAI anche ai device multimediali e quindi a smartphone, tablet, pc. Secondo l'amministratore delegato della ERAI chi ha un dispositivo in grado di collegarsi ad internet è altrettanto in grado di guardare la televisione il che significa che è tenuto a pagare il Canon ERAI come chi guarda una trasmissione nel salotto di casa sua con un normale apparecchio televisivo. Se poi penso che il grande servizio della TV pubblica ancora ci propina il professor Burioni che durante la trasmissione a che tempo che fa che è stata lunedì sera ha parlato dei nuovi sieri cioè quelli aggiornati alla variante Omicron mi chiedo perché io debba pagare il Canon ERAI il Roberto ha detto che il primo siero lui si ostina a chiamarlo vaccino era stato sviluppato a gennaio 2020 sul primo ceppo e che in Europa non ci è mai arrivato quelle che sono arrivate sono state le varianti di 614G poi la variante Alfa poi la variante Delta e infine l'amatissima variante Omicron a fine 2021 questa è stata capace di infettare i vaccinati meno patogena ma comunque contagiosissima il virus continua il Burioni il virus su cui è stato sviluppato il siero nel 2020 non esiste più ma dice siamo stati fortunatissimi perché la capacità di bloccare la forma grave della malattia è stata mantenuta cioè non ferma la contagiosità non ferma la trasmissibilità non ferma la mutabilità ma ferma l'aggravamento peggiore purtroppo però non è di lunga durata la protezione e quindi sono necessari dei richiamini questo ovviamente non potevamo saperlo all'inizio perché la scienza non è in grado di predire il futuro e su questo ne siamo ormai consapevoli tutti direi la durata della protezione conferita da un siero completamente nuovo dice Roby si conosce solo con il tempo quindi con la somministrazione e quindi con i test sui soggetti ma siamo davanti ad un virus che è bravissimo a mutare io obiettivamente non ho studiato scienzologia ma da quello che si legge in giro tutti i virus mutano alla velocità della scienza come detto dalla Jeanine Small della Pfizer quindi abbiamo da una parte il presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri che può tranquillamente dire che dobbiamo spaventare i genitori per punturare i bambini il Burioni che ci dice che tutto ciò che è stato fatto prima è servito più o meno a nulla di buono aggiungerei perché non abbiamo mai avuto a che fare con quella variante su cui sono stati creati gli scudi intergalattici del 2021 e buona parte del 2022 ma adesso staremo a vedere non fermi ovviamente cosa succederà con quest'ultima release dei seri insomma questi messaggi probabilmente non so perché possono passare indisturbati ed essere condivisi su qualsiasi piattaforma ma tutto ciò che contraddice non è ammesso e allora avanti direi con la nuova Norimberga perché a questo punto dobbiamo fare in modo che qualcuno giudichi l'operato di queste persone l'operato di coloro che hanno giudicato diciamo passabile questo tipo di messaggi e qualcuno che giudichi anche i risultati ottenuti a danno di molte persone noi andiamo avanti grazie a Forza del Popolo con tutto il programma per portare sul banco dei testimoni sul banco degli inquisiti le persone che evidentemente stanno sbagliando e non siamo dell'idea che ci vorrebbero delle scuse per gli errori commessi gli errori si pagano li pago io li paghi tu li pagano anche loro e quindi andiamo avanti seguici sul canale telegram se non vuoi perderti i prossimi video e le prossime notizie e grazie di essere con noi continuiamo a lottare